Ripartendo per la competizione, io arrivavo al curvone e avevo lo stesso identico problema del giorno prima in prova e quindi perdo al curvone 5 metri, 10 metri, dopo una decina di giri ero 12esimo, 14esimo, mi sono detto o ti fermi o lo fai come devi fare. Io non so se il curvone fatto poi successivamente quando ho iniziato a rimontare, che sono andato quasi a riprendere Kenny Roberts e quindi passando al decimo, nono, ottavo e via discorrendo, se fosse in realtà la stessa velocità o la stessa grinta del giorno primo quando sono andato per terra. Io ho l'impressione di sì, sta di fatto che i tempi sul giro lo hanno detto che stavo andando su quel ritmo, forse la fortuna, forse non era il mio giorno, forse c'era Claudio e tutte le clip, non lo so.